Oggi De Vincenti viene a dire cara Regione Abruzzo puoi partire con i contratti del Masterplan, bandi di gara, procedure e oggi c'è la firma anche di un addendum al Masterplan che è il patto per lo sviluppo che dispiega 250 milioni di euro per la vita delle persone e delle imprese. Sono molto contento poiché all'appello mancano 60.000 opportunità di lavoro, ma per trovare queste occasioni nuove di lavoro noi abbiamo dei punti fermi. Uno, un patrimonio normativo nazionale e regionale importante, un patrimonio finanziario, 2 miliardi e mezzo di euro tra PORFESR, FSE, piano di sviluppo rurale e un miliardo e mezzo del Masterplan. Dobbiamo soltanto essere capaci di attivare le procedure. Chi sono i protagonisti di questa giornata? Qualcuno ha detto che non è aperto alla cittadinanza. Allora, ci sono le imprese, ci sono le espressioni del mondo delle autonomie locali, c'è l'università, c'è l'associazione datoriale e sindacale. Certo, gli abruzzesi sono 1.320.000, qui oggi siamo mille persone, ma funziona la rappresentanza. Io dico che qui c'è l'Abruzzo che ha da dispiegare un progetto di vita, qui c'è l'Abruzzo della comunità e l'Abruzzo dell'ordinamento. Poi racconteremo agli abruzzesi, che ogni giorno fanno mille cose, come stiamo impiegando il potere e le risorse finanziarie.